L'On. Valentina Paris sarà il commissario cittadino del PD per il Comune di Avellino e quanto emerso dal vertice che si è svolto a Napoli con la segretaria regionale del Partito Democratico Assunta Tartaglione, un passaggio che ridimensiona ulteriormente la figura del segretario provinciale Carmine del Brasio, sempre più all'angolo rispetto alle dinamiche interne. Al Summit erano presenti lo stesso De Blasio, deputati Famiglietti e Paris, la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, il Sindaco Paolo Foti e l'ex Senatore Enzo De Luca. Dunque, priorità alla città e alle sorti dell'amministrazione dell'ente di Piazza del Popolo, anche se il rimedio trovato alla confusione che si è instaurata negli ultimi mesi ha il sapore di una prima bocciatura nei confronti dell'attuale maggioranza del PD provinciale. Intanto, questa mattina si sono cristallizzate le prime conseguenze concrete dell'impasto a Palazzo di Città. L'assessore alle politiche sociali Roberto Rossi, infatti, ha rassegnato le sue dimissioni. Non si è trattato però di un fulmine a Celserino. La situazione è andata deteriorandosi col passare del tempo. Dorsi, esponente dell'esecutivo vicino al movimento politico-culturale Irpinia di base, esce di scena dopo poco più di tre mesi dalla sua nomina. La sua decisione, d'altro ancora, nella conferenza stampa di domani mattina dei consiglieri Ambrosone e Montanile.